Siamo a Roccaforzata, un comune nelle vicinanze di Taranto. Una situazione stranissima. Questa strada era intitolata alla memoria dell'ex sindaco di Roccaforzata Michele Di Campo. A un certo punto l'attuale sindaco Pastore decide di cambiare denominazione e dice che questa strada non sarà più intitolata a Di Campo ma a Cataldo Stellato che era un medico, ovviamente scomparso, di Roccaforzata. Non sappiamo le ragioni di questa scelta. Ci sono giunte voci secondo cui l'attuale sindaco Pastore si sarebbe così espresso. Creeremo una nuova area, una serie di vie da destinare alla memoria dei precedenti sindaci. Ma all'epoca, oltre un anno fa, decise materialmente di operare la sostituzione. Si toglie la targa recante il nome di Michele Di Campo e la si sostituisce con un'altra targa appunto recante il nome di Cataldo Stellato. Io sono dell'idea che il sindaco Pastore certamente non ha onorato la memoria di Michele Di Campo. Gli ha mancato di rispetto. Sarebbe stato corretto e sarebbe stata una forma di educazione verso il Di Campo e verso la sua famiglia prima attribuirgli, dedicargli una nuova via e poi procedere alla sostituzione. Non so se ci sono motivazioni di carattere personale relative appunto alla scelta dell'attuale sindaco. Non vorrei che così fosse. Certo è, lo sottolineo, l'attuale sindaco Pastore a mio avviso è stato molto scorretto, non ha avuto alcuna forma di rispetto nei confronti del Di Campo. Parliamo di Michele Di Campo, sindaco per 15 anni di Roccaforzata nel periodo a cavallo tra gli anni 60 e gli inizi degli anni 70. Un sindaco che ha veramente segnato la storia di Roccaforzata, realizzate tantissime opere, penso alla Casa Comunale, penso al Nuovo Calvario, rifacimento di Piazza Castello, la realizzazione della prima farmacia comunale, l'apertura di tre o quattro strade, è stato l'autore del piano regolatore, è stato autore dell'ampliamento del cimitero. Insomma, tutta una serie di opere che gli abitanti di Rocca ricordano con stima e con affetto. Ebbè, di fronte a tanto impegno, a tante opere realizzate, la beffa. La beffa subita appunto nel vedere rimossa la targa dedicata alla sua memoria. E' triste proprio l'immagine di questa targa che è stata rimossa ed è stata appunto sostituita con un'altra, ovviamente recante, una nuova intitolazione. E' una situazione strana. Vorrei che il Sindaco Pastore ci spiegasse. Ricordiamo anche che il Sindaco Pastore reduce da pesanti vicende giudiziarie che l'hanno visto coinvolto in uno scandalo riguardante i vertici della Marina Militare. Ricordiamo che l'attuale Sindaco Pastore è stato anche condannato. Insomma, tutta una serie di vicende. Ma non voglio entrare nel merito di questa situazione. Ci interessa sapere però le vere ragioni alla base di questa scelta. Noi difendiamo la memoria di un uomo che ha fatto tanto per Roccaforzata e che a mio avviso con questa scelta in un certo qual modo è stata calpestata la memoria di una persona, ripeto, tanto fattiva per Roccaforzata. E si è mancato di rispetto anche nei confronti dei familiari, dei figlioli, di quelle persone appunto che hanno nel cuore la memoria di Michele Di Campo. Un'offesa a Michele Di Campo, ai suoi familiari e io dico ai tanti, tantissimi cittadini di Roccaforzata che hanno davvero amato Michele Di Campo. Aspettiamo, caro sindaco Pastore, le sue risposte. E la risposta migliore che potrebbe dare sarebbe provvedere subito ad intitolare una nuova strada a Michele Di Campo. Vediamo, sindaco Pastore, se effettivamente è stata solo una scelta temporanea la sua. La mettiamo alla prova. Vediamo. Io sinceramente a questa storia, che una nuova strada sarebbe stata intitolata successivamente a Michele Di Campo, non ho mai creduto e non ci credo. Prova nel fatto che questa strada ancora, questa ipotetica strada ancora, non reca il nome di Michele Di Campo. Ma aspettiamo, caro sindaco Pastore. Sindaco Pastore, lo sottolineiamo, che ha riportato una condanna abbastanza significativa e abbastanza importante, purtroppo per lui e purtroppo per Rocca. Grazie. 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 Grazie.